pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventiquattresima domenica continuiamo il nostro cammino nel diciottesimo capitolo del vangelo secondo matteo inerente i rapporti nella comunità e tocchiamo il tema caldo del perdono pietro va da gesù gli chiede maestro fino a quante volte devo perdonare il fratello che pecca contro di me fino a sette volte la risposta di gesù è spiazzante no pietro non fino a sette volte ma 70 volte 7 cioè sempre e comunque si parla dunque di un perdono incondizionato totale in effetti se ci fate caso sia nella domanda di pietro che nella risposta di gesù non c'è la condizione che il fratello si penta si parla soltanto di dare il perdono a uno che pecca quindi di un perdono da dare sempre e comunque che appare quasi come il collante il collante di una comunità di una famiglia di un movimento in effetti vivere a contatto con gli altri significa sperimentare l'alterità dell'altro con tutta la sua bellezza e anche limitatezza se mancasse il perdono sarebbe davvero impossibile vivere e camminare insieme perché perché prima o poi io toccherò con mano la fragilità dell'altro così come l'altro toccherà con mano la mia fragilità se mancasse la voglia la forza e la disponibilità a riaccogliersi sempre e comunque sarebbe davvero impossibile camminare insieme ecco qui per perdono quindi cosa intendiamo quella disponibilità a riabilitare la persona a lasciare andare ogni risentimento perdono un dono per l'altra persona quella libertà interiore meravigliosa che è indipendente dal fatto che l'altro si ravveda o meno è chiaro perché ci sia la riconciliazione serve che da una parte il perdono venga chiesto e dall'altra venga donato ma il perdono viene qui dipinto come qualcosa di indipendente dal ravvedimento dell'altro una libertà interiore una sovrabbondanza d'amore che va oltre ascoltando tutto ciò potrebbe venire il dubbio che sia impossibile da attuare che gesù ci stia chiedendo qualcosa di sovrumano che ci stia mettendo un peso sulle spalle impossibile da portare ma non è così miei cari gesù non soltanto ci dice di perdonare ma innanzitutto ci dà la grazia di farlo e in più ci dà anche la motivazione per farlo anzitutto ci dà la grazia non dimentichiamo che il vangelo è la buona notizia l'annunzio della salvezza che in gesù ci viene offerta gesù per primo ci ha perdonati pensate a tutta la passione del signore gesù che si fa carico dei nostri peccati viene crocifisso dalle sue creature e pregando dice al padre padre perdonali perché non sanno quello che fanno gesù per primo ci ha già perdonati ci offre il perdono nella fede in lui e in più ci ha anche giustificati cioè ci rende giusti ci dà la possibilità accogliendo lui e lo spirito di dio in noi di vivere da figli di dio di amare e perdonare con dio come dio allora gesù anzitutto ci dà la grazia per poter perdonare sempre e comunque e ci offre anche la motivazione per farlo ed è ciò che segue con la parabola successiva gesù racconta di un re che volle regolare i conti con i suoi servitori si presentò un servo che aveva un debito enorme supplicò il re gettandosi in ginocchio e chiedendo di aver pazienza con lui che a suo tempo avrebbe restituito ogni cosa il re mosso a pietà per questo servo non soltanto rimanda o dilazione al debito ma glielo condona completamente un debito enorme questo servo condonato esce incontra un altro servo che a sua volta gli doveva pochi spiccioli quest'altro servo lo supplica gettandosi ai suoi piedi chiedendo che gli dia tempo e modo per restituire a suo tempo ogni cosa ma il servo condonato non vuol sentir ragioni e con durezza intransigenza fa sbattere l'altro servo in carcere finché non gli avrà restituito tutto il senso è molto chiaro fin qui questo re rappresenta il signore stesso il servitore condonato rappresenta ognuno di noi ai quali viene condonato moltissimo ognuno di noi ha un debito enorme nei confronti di dio non soltanto la vita che un dono meraviglioso ma la salvezza che gesù già ci ha procurato morendo risorgendo per noi così come il perdono che dio ci offre per ogni nostra caduta peccato e mancanza insomma dio nei nostri confronti è come questo re mosso a pietà sa di cosa siamo plasmati a tanta cura tanta tenerezza ci dà sempre nuova occasione per ripartire non guarda i nostri peccati in vista del pentimento è continuamente pronto a rialzarci a ridarci nuove occasioni nuova possibilità per dio potremmo dire non si va per meriti ma per grazia quanti di noi stanno davanti a dio come persone che tendono ad autogiustificarsi a meritarsi le cose qual è invece la nostra realtà quella di essere scandalosamente gratuitamente amati e perdonati da dio ma noi tante volte tendiamo a scindere le due cose ciò che noi siamo in verità davanti a dio e ciò che gli altri sono accanto a noi di fronte a noi vedete questo servitore ha un problema gli viene condonato tanto e lui non fa sua questa grazia che gli è stata data non si rende conto di quanto gli sia stato assolto tutto sommato pensa sia una cosa quasi naturale potremmo dire normale non dà peso a tutto questo e qual è la conseguenza che il fratello che ha un debito nei suoi confronti non riceve da parte sua alcuna misericordia ma solo durezza e intransigenza quante volte noi per primi tendiamo ad autogiustificarci a banalizzare il male che abbiamo fatto a volte non riusciamo a vederlo completamente altre volte non vogliamo vederlo per paura che crolli quell'immagine di personcine per bene che ci siamo costruiti quante volte usiamo ad esempio dei vezzeggiativi dei diminutivi per giustificarci fatto qualche errorino commesso qualche peccatuccio forse ho sbagliato se a volte riconosciamo le cose camuffiamo chiediamo scusa per le nostre mancanze in generale ma senza dare nome e cognome ai nostri peccati ai nostri errori quanto è importante invece imparare a metterci davanti a dio per ciò che siamo realmente e come è possibile farlo ad esempio ritagliandosi del tempo per un buon esame di coscienza ogni sera chiedendo a dio la grazia di riconoscere le nostre mancanze ripercorrendo i momenti salienti della nostra giornata parole opere omissioni pensieri e sentimenti che si sono coltivati nel cuore ripercorrerli davanti a dio senza paura di renderci conto delle nostre mancanze perché perché siamo amati siamo perdonati allora persino il peccato può diventare il luogo dove facciamo esperienza della misericordia di dio e da misericordiati possiamo diventare più misericordiosi nei confronti degli altri perché se da una parte noi tendiamo a sminuire le nostre mancanze dall'altra tendiamo ad ingigantire quelle degli altri e dunque se noi facciamo qualcosa è stato un errorino una svista un peccatuccio se la fa la persona che abbiamo accanto giu accuse mormorazioni critiche durezze quanto è importante non perdere di vista la nostra condizione di persone perdonate e allora le colpe altrui nei miei confronti mi permettono di dare quel perdono che io per primo ricevuto in dono addirittura potremmo dire che colui che ci dà tanto fastidio è proprio l'occasione che ci viene data per imparare ad amare come dio potremmo quasi dire per assurdo meno male che in questo senso c'è il male che dio non vuole che commettiamo certo ma il male commesso diventa l'occasione che abbiamo per sperimentare la misericordia di dio e sentendoci perdonati di più possiamo amare di più il signore dall'altra parte il male che subisco è l'opportunità che ho per amare di più i miei fratelli diventando più simile al signore volendo dirlo con uno slogan potremmo dire il male mio diventa perdono di dio il male dell'altro diventa perdono mio che mi fa come dio e che ci metta sull'attenti anche il prosieguo della parabola gli altri servi al vedere il servo condonato incarcerare il fratello andarono a denunciarlo al re il re mandò a chiamare il servo condonato gli disse servo malvagio io ti ho condonato così tanto e tu non sei stato capace di perdonare così poco nei confronti del tuo fratello ora mettete in carcere anche lui finché non abbia restituito sino all'ultimo spicciolo e gesù conclude dicendo così il padre vostro celeste farà a voi se non userete misericordia verso gli altri come a dire che la misericordia di dio è infinita ma se non siamo stati disposti a perdonare gli altri nel giorno del giudizio troveremo la stessa misura che avremo usato nei confronti degli altri in conclusione vorrei condividere con voi una splendida testimonianza durante la seconda guerra mondiale 26 luglio a dachau nel triste noto campo di concentramento una giovane infermiera si avvicina al sacerote titus bransma per ucciderlo con una iniezione di veleno così era stato ordinato dalle autorità del campo la giovane poi racconterà il sacerdote non mostrò il minimo odio nei miei confronti mi disse con disarmante mitezza povera ragazza io pregherò per te e mi diede la corona del rosario io risposi che non ero capace di pregare quindi non mi serviva e gli mi disse anche se non sai pregare di almeno la seconda parte dell'ave maria ripeti spesso prega per noi peccatori se preghi ti salverai allora io risi oggi invece piango e trovo fiducia solo pensando al perdono di quel condannato chiediamo davvero la grazia al signore e quel perdono immenso che viene offerto e donato a ognuno di noi diventi perdono donato nei confronti dei nostri fratelli e sorelle che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti